La città di Modena. Modena è stata una città che io ho conosciuto sempre, ho studiato soprattutto per le battaglie. Si sono svolte parecchie importanti anche battaglie presso la città di Modena, una in particolare proprio durante il primo secolo avanti Cristo. E Modena era una città della Gallia, cioè intendo dire apparteneva alla provincia, non faceva parte della civitas romana, apparteneva alla provincia della Gallia. Modena probabilmente era stata fondata, adesso questo non lo so di preciso, però era sicuramente una di quelle città che erano punti di riferimento dei Galli. I Galli Boi si stanziano soprattutto a Bononia, che è quasi la loro capitale, ma probabilmente c'erano i Galli anche in questa città di Modena, che si chiamava all'epoca, all'epoca romana si chiamava Mutina. Benissimo. Ora, quando i Romani colonizzano questa città, creano il famoso Castrum Romanum, cioè la pianta della Modena romana era una pianta quadrata, o rettangolare al massimo se volete, che era segnata da un cardo e da un decumano. Ora, queste vie a Modena continuano ad esserci, continuano ad essere dei punti di riferimento importantissimi e in corrispondenza dei lati di questo Castrum, alla metà anzi precisa dei lati di questo Castrum, erano poste le quattro porte romane. Ecco, le vedete qua. Quando poi la città si è espansa in epoca medievale, possiamo intravedere attraverso questa ricostruzione quali erano le mura di Modena, tra l'altro mura molto possenti. Quindi, diciamo che è stata inglobata la Modena romana, ma sono rimasti alcuni punti di riferimento. Per esempio, anche la Modena medievale aveva quattro porte in corrispondenza dei quattro punti cardinali, è come una sorta di, addirittura in un caso, proprio di costruzione di una porta medievale laddove vi era già una porta romana. Capite? Mentre negli altri tre casi, in posti un pochettino, visto che la città si è espansa un po' più lontani rispetto alle mura originarie romane, ma sempre in corrispondenza del cardo e del decumano. Noi possiamo anche stabilire e ricostruire dove si trovava l'anfiteatro, perché non so se riuscite a intravedere la sagoma di alcune vie della moderna città di Modena. Ebbene, queste vie sono costruite in un modo molto particolare laddove vi era l'anfiteatro. Infatti, queste vie, in buona sostanza, occupano quello spazio ovale che era appunto lo spazio del perimetro dell'anfiteatro. Ma lo vedremo ancora meglio, questo particolare. Qua c'erano le terme, qua c'era il tempio, si intende quindi il centro della città, dove c'era un foro e anche un tempio probabilmente pagano. Ecco qua il foro, infatti. Purtroppo, Modena ci ha lasciato pochi resti dell'epoca romana. Ci sono per esempio degli obelischi, dovete sapere che a Modena sono arrivati anche gli estensi, e là dove poi gli estensi avevano creato una specie di parco con degli obelischi, ecco là ci sono delle rovine romane, chiamiamole così. Oppure dobbiamo andare a vedere i vari musei della città, dove ci sono dei resti importanti, anche da un punto di vista scultoreo. Ecco la cosa però che ho visto io, che mi è rimasta impressa. Così vi racconto la Modena romana, così come l'ho vista io. Quando ho visitato infatti il centro della città, a un certo punto i miei amici modenesi mi hanno detto ma guarda un po' queste due strade che convergono fra di loro, non in una maniera, diciamo, perpendicolare, ma tutta così arcuata, no? Ecco, non è una cosa casuale perché questo era proprio il posto dove si trovava l'anfiteatro. Allora approfondito il discorso, le due grandi vie che un tempo erano ai lati dell'anfiteatro romano sono rimaste intatte, diventando un canale, prima di tutto, e poi invece attualmente sono tornate ad essere due vie percorribili nel nostro centro storico. Le due vie in questione sono via Canalino e via Montadora. E quindi si può vedere anche, almeno potete immaginarlo anche parzialmente guardando questa fotografia, potete immaginare il perimetro di questo anfiteatro romano che avvolge un po' tutta questa zona. Oh mamma mia, non avevo fatto vedere le slide fino adesso agli amici di YouTube. Eccole, carissimi amici di YouTube. Le vedete queste due vie che si intersecano fra di loro in una maniera un po' originale, particolare? Si chiamano via Canalino e via Montadora e hanno quest'andamento così obliquo, insomma, proprio perché sono costruite su quello che era il perimetro dell'anfiteatro romano. Prima, cari amici di YouTube, abbiamo visto la pianta della Modena romana e abbiamo visto come ancora adesso si possa intuire qual era il perimetro dell'anfiteatro romano proprio guardando, sappiamo dov'era l'anfiteatro, guardando queste vie che oggi come oggi formano questa sorta quasi di ovale, proprio in una zona del centro della città. Benissimo. Ora, dalla Modena romana andiamo a parlare senz'altro della Modena medievale, che è stata una Modena molto molto importante. Come abbiamo detto e spiegato, soprattutto poi intorno al Novecento, quando c'erano tante invasioni, furono costruite delle mura possenti. Intanto un salutone a Elf Saink Karakam insieme a Simone Paoleschi, mi stanno seguendo da Instagram insieme anche a Vittorio Marco Bossi, grandissimo amico, e a Dame Giordano, e mi stanno mandando dei cuoricini. Quindi, eccolo che ti saluto, Elf Saink Karakam. Stavo spiegando quindi dell'importanza delle mura. Se vediamo infatti nuovamente questa ricostruzione, osserveremo che le mura romane non erano così spesse. Erano essenzialmente un castrum, ecco, e poi all'interno di questo castrum si edificava la colonia romana. Invece, in epoca medievale, furono costruite delle mura possenti, delle mura spesse. E infatti si diceva che le mura di Modena erano quasi come le mura di Lucca. Se conoscete la città di Lucca ricorderete come sono possenti queste mura. Tra l'altro queste mura erano percorribili perché sulla sommità delle mura c'era una sorta di passatoia per cui era possibile anche passeggiare attorno alla città lungo questo corrimano che si trovava sulla sommità delle mura. Ebbene, siamo agli inizi del 1900 quando gli amministratori della città di Modena, divenuta a un comune ovviamente sotto il regno d'Italia, decisero, stabilirono che le mura chiudevano troppo, rappresentavano un ostacolo, ecco, e quindi che dovevano essere abbattute. E allora i miei amici di Modena mi hanno raccontato dei loro antenati che sono stati assoldati come tanti, tanti modenesi per abbattere le mura della città. Qui troviamo, vediamo infatti una fotografia risalente al periodo fra 1911 e 1913. Qui, per esempio, le mura vengono abbattute nel tratto della barriera Garibaldi al baluardo San Pietro. Ecco, qual era lo scopo? Lo scopo era di allargare la città, di non rinchiuderla e quindi al posto delle mura è stato creato un grandissimo viale alberato lunghissimo che permette di passeggiare attorno alla città senza che ci siano più le mura. Purtroppo, però dobbiamo dire la verità. In realtà si è perso qualcosa. Si è perso qualcosa che, invece, appunto, vi stavo spiegando di Lucca, a Lucca c'è ancora, è un qualcosa che caratterizzava sicuramente questa città e quindi comunque questo è stato deciso e così è cambiata un po' la fisionomia della città. Quindi quando noi siamo arrivati, partendo appunto a piedi, a visitare il centro storico poco prima della porta, delle porte che introducono nella città, che anche queste, essendo state abbattute le mura, in più delle volte non sono più neanche visibili se non con la toponomastica, ci siamo ritrovati tutti questi bei viali alberati, dove, lungo i quali si può passeggiare e ci siamo inoltrati nel centro storico della città. Cosa abbiamo visto, per esempio, nel centro storico di Modena? Abbiamo visto un bellissimo mercato coperto. Noi che abbiamo visitato Budapest, siamo stati ammirati, ecco, da quel fantastico mercato coperto che c'è a Budapest, a più piani, ecco, a due piani addirittura, enorme. Questo è sicuramente di dimensioni ridotte, ma molto molto carino, come quello di Budapest. È il mercato Albinelli, un mercato coperto, sito nel centro storico di Modena, tra l'altro l'abbiamo trovato proprio subito dopo quelle due vie, appunto vi dicevo via Cananino e via Montadora, che ripercorrono il perimetro dell'anfiteatro romano. Ecco, questo mercato è vero, è stato costruito nel 1900, ma ci fa capire subito qual è stata l'evoluzione della città e del comune di Modena, nel senso che, una volta difesosi dalle invasioni straniere, attraverso queste mura, si svilupparono all'interno della città attività artigianali e commerciali sin dall'anno 1000, possiamo dire, se non addirittura prima. Quindi Modena, insieme con Parma, con Bologna, eccetera, è uno di quei comuni che riesce a, diciamo così, a rendersi sempre più autonomo nel corso di questi secoli, 900, 1000, 1100, tanto che, come vedremo la volta prossima, già nel 1099 è in grado di edificare e porre la prima pietra del suo duomo. In questo periodo comunque, senz'altro, c'è un grosso rapporto tra la città e il suo vescovo. In un periodo successivo, la città si renderà autonoma anche dal vescovo. Ma ritorniamo al 1900. Questo mercato, stupendo, bellissimo da visitare, ecco, per esempio, i miei amici modenesi dicono, guarda che, noi conosciamo ogni singolo commerciante che c'è qua. Si tratta di persone che lavorano qui da sempre, tutti i giorni e con loro si instaura un rapporto che è completamente diverso rispetto a quello di un centro commerciale, di un supermercato. È un rapporto di fiducia. I modenesi ci tengono tantissimo a questo, anche a mangiare bene. Questo l'ho potuto verificare in primissima persona. Pensate che al matrimonio del mio figlio hanno regalato una boccettina di aceto balsamico a tutti gli invitati, perché è preziosissimo l'aceto balsamico modenese. Pensate che la nonna di mia nuora, quindi la mamma della mia consuocera, ecco, era famosa ed è ancora viva, è famosa perché è in grado di realizzare degli aceti balsamici straordinari. Dopo una lavorazione di mesi, 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 per non dire anni. Un nettare densissimo e gustosissimo che ha un valore, si può dire, inestimabile. Questo dell'aceto balsamico è un esempio, ma ce ne sono tantissimi altri. Tra l'altro, proprio nel centro storico di Modena, noi abbiamo visto, e purtroppo adesso non ho qui con me la foto, della famosa salumeria Fini, appunto di Telesforo Fini, che adesso momentaneamente è chiusa, che è una salumeria tradizionale, storica della città di Modena. E da qui la grande industria alimentare Fini, che è una delle più importanti della città. Ma entriamo dentro questo mercato. Ecco, ci sono due fotografie qua. Queste due fotografie riguardano sempre il centro del mercato, perché al centro del mercato c'è questa statua, quindi questa fotografia ci fa vedere come questa statua sia sulla sommità di una fontana, mentre quest'altra più a destra ci fa vedere in maniera più particolareggiata la statua. E sullo sfondo quelle bellissime bancarelle di frutta, ma vi assicuro non ci sono solo bancarelle di frutta in questo mercato, fantastiche, insomma, che si possono vedere, visitare. Tra l'altro ci sono anche degli street food, insomma, intendo dire dei locali per mangiare, diciamo al banco. anche con dei tavolini, però, all'interno di questo mercato e, appunto, vi dicevo, tantissime altre bancarelle, non solo di carattere alimentare. Perché si chiama Albinelli questo mercato coperto? Il mercato coperto si chiama Albinelli perché Luigi Albinelli fu un importante sindaco di Modena dal 1900 al 1908, famoso perché riqualificò la contrada delle carceri. Tra l'altro, suo intento era quello di rendere meno ambulanti, ecco, diciamo così, i venditori che c'erano in giro per la città, dare loro un luogo, un posto in cui potessero mettere le loro bancarelle in un modo, in una maniera un po' più stabile che non fosse quella del carrettino ambulante. Questo era un suo pensiero, una sua idea, un suo sogno, che non fu realizzato da lui stesso, ma ad alcuni suoi successori, che nel 1931 inaugurarono questo mercato, appunto, intitolandolo a lui Mercato Albinelli. Nell'anno dell'inaugurazione, quindi nel 1931, al centro del mercato venne collocata questa fontana denominata Fanciullina con canestro di fiori, opera dello scultore Giuseppe Graziosi, uno scultore importante, perché è uno scultore novecentesco, contemporaneo, però sicuramente che ha, come vedete, un'attitudine, potremmo dire naturalista, ecco, mettiamola in questi termini, cioè che ancora opera sulla scorta di tanti movimenti culturali e artistici naturalisti della fine dell'ottocento. Opera, quindi a cavallo tra 800 e 900, ma con questa impronta particolare. Qui potete vedere questi bellissimi, diciamo, queste bellissime bancarelle. Quest'idea però, adesso ne parleremo, questa idea del mercato coperto, oppure dei negozi comunque che possano essere riparati, la rivedremo anche in tutto quanto il centro storico, parlando dei porticati. Adesso però vorremmo parlare di un'altra eccellenza di Modena, che è la sua università. Sappiamo che intorno al 1088, almeno così pretendono i bolognesi, sia stata fondata la loro università, la prima università, la prima università europea, quindi possiamo dire la prima università mondiale a Bologna, quindi Alma Mater Studiorum, la famosa madre degli studi. Diciamo che tra Modena e Bologna c'è sempre stata una rivalità. Purtroppo Modena ha sempre un po' sofferto di un piccolo complesso di inferiorità rispetto a Bologna. Il paragone tra Bologna e Modena è un paragone che sorge quasi spontaneo. Lo sappiamo anche noi, perché quando abbiamo fatto la nostra serata su Radici di Francesco Guccini, che è nato a Pavan, insomma, o comunque nella campagna, se non sbaglio proprio a Modenese, ecco, comunque lui è stato uno di quelli che ancora di più ha accentuato questo paragone a discapito di Modena, perché infatti Modena viene così rappresentata in una sua canzone di quell'album, come una piccola città un bastardo posto, ve lo ricorderete, no? Mentre a Bologna, nell'Università di Bologna, in modo particolare se non sbaglio Guccini ha studiato liceo, insomma, a Modena e l'Università a Bologna, ecco lì invece ha incontrato una maggiore vivacità culturale, che lo ha segnato in positivo. E questo lo si capisce anche appunto dalla canzone Bologna. Ma non solo, ecco, in altre canzoni parla di queste due città, sempre in genere puntando il dito sull'eccessivo provincialismo, chiusura, dei modenesi, rispetto all'apertura intellettuale dei bolognesi. Non dite queste cose però ai miei amici, non ditelo neanche a me, che ormai sono modenese di adozione, come mio figlio, mio figlio molto di più di me, però ecco, non ditecelo, perché Modena è una città che ha una storia bellissima, una storia che sin dal Medioevo è segnata da una grande altezza culturale e artistica, lo vedremo soprattutto la prossima volta con la serata sul Duomo di Modena, grande autonomia, grande libertà e quindi sicuramente anche grande attaccamento, diciamo così, a dei grandi importanti valori. E' di fatti questa università che è sorta nel 1175, oggi come oggi è un'università in grande crescita, sia perché diventata in realtà adesso è un'università di Modena e di Reggio, quindi con una sorta di acronimo UNIMORE, sia perché nelle rilevazioni ha ottenuto dei risultati sempre migliori negli ultimi anni, a testimonianza di una crescita anche culturale della città. Quindi ancora oggi possiamo dire che Modena è una città universitaria. Provate a pensare nel Medioevo, quando Modena fu una delle prime università che sorsero in Italia e questo sicuramente ebbe delle ripercussioni sull'urbanistica. Nel senso che provate a immaginare quello che avviene ancora oggi, quando c'è una città universitaria ci sono molti giovani che convergono nella città e che hanno bisogno di alloggio, giusto? E allora, diciamo che l'arrivo di così tanti studenti, a Modena così come anche a Bologna, eccetera, costrinse a costruire case sempre più alte. Ben presto però le vie diventarono più strette. Si pensò di tagliare una parte della parete affinché potessero passare le persone. Inizialmente le case erano sostenute da mensole, dette i beccadelli. Ecco, vedete la laringite di cui vi parlavo, che ben presto non riuscirono più a sostenere il peso della casa. E così, al posto di questi beccadelli, si misero delle colonne e quindi in buona sostanza dei porticati. Nacquero in quel momento i portici. I portici erano utili anche per il commercio. Perché nel momento in cui si creavano porticati era possibile commerciare, vendere, comprare, eccetera, anche se pioveva, anche con le intemperie. Ecco il motivo per cui a Bologna, a Modena, si creavano dei porticati lunghissimi. Stiamo parlando di chilometri di porticati. Noi andiamo a visitare il centro di Modena, bellissimo, vi assicuro visitarlo. E lo facciamo proprio passando attraverso questi porticati. A me personalmente è successo di vederli a Bologna molto più, come dire, rettilinei, regolari. E a Modena, invece, porticati più irregolari, che assecondano le vie medievali, appunto, della città, quindi generalmente anche più stretti rispetto a quelli bolognesi, più tortuosi. Però questi porticati permisero lo sviluppo straordinario dei commerci in epoca medievale. Infatti Modena si trovava in un punto strategico di passaggio della via Emilia, sin dai tempi di Roma, ovviamente, no? E quindi passavano, appunto, i pellegrini, passavano i passeggeri, insomma, anche provenienti da altre città e trovavano spesso qui dei prodotti che, appunto, erano l'anima del commercio dell'artigianato, sicuramente, e del commercio modenese. E potevano fare tutto questo, questo percorso attraverso i negozi che ancora oggi si trovano in questo centro storico, qui potete vedere proprio una fotografia con dei visitatori o dei clienti che stanno osservando delle vetrine. lo potevano fare tranquillamente perché protetti da questi portici, da questi porticati. Quindi, nati anche per quel problema che vi ho detto prima, cioè arrivano tanti giovani per studiare presso le università, ma anche con questo scopo di proteggere i negozi, di permettere, insomma, lo struscio si dice al sud, quindi, in buona sostanza, il passeggio, anche un passeggio però che ha uno scopo, un intento commerciale. Ecco, Modena è una città straordinaria, tanto che nel 1997 la cattedrale di Modena, la torre della Ghirlandina e Piazza Grande sono state dichiarate patrimonio dell'umanità. E c'è proprio un sito dell'UNESCO dal quale ho preso alcune delle informazioni, tra l'altro o delle fotografie che vi sto facendo vedere stasera. Ovviamente, però, molti aspetti relativi, appunto, alla cattedrale o altri aspetti, insomma, anche relativi alla Piazza Grande, sono cose di cui parlerò la prossima volta, cioè domenica 2 gennaio. Passiamo adesso invece a parlare, perché il Duomo rappresenta in realtà solo uno dei lati della Piazza Grande di Modena, perché poi, in un altro lato, c'è il Palazzo Comunale. I punti nevralgici della piazza sono la statua della Bonissima e la Petra Ringadora. Andiamo a vedere, quindi, la Petra Ringadora. Ecco, iniziamo con la Petra Ringadora. Che cos'è? È un elemento molto particolare che caratterizza Piazza Grande. Qui possiamo vedere proprio i palazzi comunali sullo sfondo, no? Allora, si tratta di un grande masso di ammonitico, ammonite, non so, veronese, rosso, di forma rettangolare, insomma, un grosso pietrone. Ecco, mettiamola... Ciao Nicolò Ogello. Ciao Francesco. Ciao Lorenza. Cioè, collocato in prossimità proprio del porticato, lo vedete qua dietro, del Palazzo Comunale, di fronte alla scalinata d'accesso. In origine, probabilmente, si trovava in questo stesso punto, ma in realtà nel corso dei secoli ha subito vari spostamenti, sui quali non ci soffermiamo, perché, insomma, altrimenti perderemo parecchio tempo a dire come si è spostato dal 1400, 1500, 1600 a 1700 questo pietrone. Ma è ritornato probabilmente nel posto che gli compete più, proprio lì, vicino all'ingresso del Palazzo Comunale. Pietra Ringadora, diciamo che nell'80% dei casi viene interpretato, la pietra di chi arringa, la pietra di chi conciona, cioè diciamo così, di chi parla alla folla, parla al pubblico, parla alla piazza. Infatti servì da tribuna e da pulpito agli oratori modenesi che nel Medioevo, durante le adunanze popolari, parlavano ai cittadini. Il nome potrebbe però derivare anche da rendadora o renditora o rendibitora, convertiti poi nel parlare comune in arringadora o lingadora. In questo senso il riferimento sarebbe al debitore che deve rendere dei soldi che non ha, per esempio. Allora a forza veniva tratto sulla pietra per la restituzione dei beni da lui truffati ai creditori. A partire dal 400 la pietra inizia ad essere usata quasi come una pietra del disonore, come monito di dura giustizia mercantile. Cioè, nel senso proprio, se ci mettevano sopra i debitori costretti a restituire i soldi ai creditori, diventa un po' una pietra della vergogna. sempre nella piazza grande, guardando il palazzo comunale questa volta invece spostandosi proprio verso destra, fino ad angolo, ecco, fra quella che è la piazza grande, una piccola via che si incunea, insomma, nel centro storico della città, si trova lì ad angolo, come spesso avviene alle statue che vengono poste ad angolo proprio perché uno si affidi a loro. Ecco, c'è questa statua qui. Ora, i miei amici modenesi la interpretano secondo questo che è la prima ipotesi, ma ci sono altre due ipotesi di interpretazione di questa statua. Infatti, i miei amici modenesi la chiamano la statua della Bona Bonissima, intendendo dunque che questa sarebbe la statua di una donna ricchissima, di nome Bona, chiamata Bona Bonissima perché era molto molto buona, poiché in un tempo di grande carestia ha prestato la cittadinanza cospicue somme di denaro per l'acquisto di frumento per tutti quelli che ne avevano bisogno nel momento in cui appunto si stava morendo di fame. E questa è appunto, abbiamo detto, una statua nell'angolo del palazzo del comune. Benissimo. E questa è la prima ipotesi, ma ce ne sono altre due. La seconda è che lei sarebbe la contessa Matilde di Canossa. Ecco, Modena diventa grande proprio nel momento della lotta per le investiture, diventa grande proprio nel momento in cui si affianca, si allea con Matilde di Canossa. Tra l'altro, Matilde di Canossa era signora di gran parte dell'Italia centro-settentrionale. Ecco, c'era stata una disputa, i modenesi sono sempre stati molto legati a San Geminiano, ne parleremo la volta prossima. San Geminiano è un vescovo, il vescovo di Modena del IV secolo d.C. Pensate che San Geminiano è nato proprio nel 313 d.C., quindi l'anno dell'editto di Milano. Era un vescovo, ne parleremo anche la volta prossima, che aveva lottato molto contro gli ariani. E' un vescovo a cui sono legatissimi, vi dicevo, i modenesi. Ma altri vescovi probabilmente desideravano riconoscere le reliquie del santo, non credevano ai modenesi che dicevano guardate che le reliquie sono quelle che si trovano nella cripta che vedremo appunto fra quattro giorni domenica sera. E allora c'era veramente una grossa disputa, Matilde di Canossa prese decisamente le parti dei modenesi. E qui ecco il motivo per cui alcuni dicono, ma è impossibile che una così grande alleata di Modena non abbia neanche una statua, non ce n'è neanche una statua di Matilde di Canossa nel Duomo di Modena, lo vedremo tra quattro giorni, e quindi questa deve essere la sua di statua, questa buonissima, perché lei è stata molto buona con i modenesi. Un'ultima interpretazione è che questa statua in realtà non rappresenti né quella nobile donna buona, né Matilde di Canossa, ma che sia un simbolo, che rappresenti un pubblico ufficio del comune, visto che si trova lì nell'angolo del palazzo comunale. L'ufficio della buona opinione, detto anche ufficio delle bollette, era uno di quegli uffici che servivano, ecco loro hanno un grosso senso del comune, del bene comune in modenesi. Ecco un'altra cosa bellissima che vi volevo trasmettere, no? E questo lo si capisce anche da questi particolari, no? Cioè i modenesi capiscono che perché il comune possa essere sempre più forte e potente, è necessario che tutti diano una mano, tutti diano quello che è dovuto, no? Ulteriore conferma di questo, che sarebbe l'ufficio delle bollette, rappresenterebbe addirittura l'ufficio delle bollette, è che impede bonissime, bonissima è, quindi, ai piedi della bonissima, sull'astrone, cioè che sorreggeva questa statua, erano scolpite le patre misure mercantili, il passo, il braccio, il modus, la forma e la misura dei quadrelli, dei mattoni, dei coppi, le mine da biada e da vino, le suole delle scarpe, eccetera. Poi però, di fatto, dal 1468, alla base di questa statua non c'è più nessuna misura commerciale. Le misure commerciali le possiamo trovare sul lato esterno dell'abside centrale del Duomo, scolpite, e troviamo ad esempio, qua ho segnato in rosso, la misura del passo, quindi potrebbe essere circa un metro e mezzo, la misura della pertica, che sarà almeno il doppio di un passo, anche di più, la misura delle pietre e dei coppi, che si usavano per le tegole, diciamo, per coprire i tetti. Quindi alcune, almeno, delle misure che si trovavano una volta ai piedi della statua della Bonissima, adesso si trovano invece scolpite, appunto, in alto rilievo, sono scolpite sul lato esterno dell'abside centrale del Duomo. Siamo praticamente sempre nella Piazza Grande. A questo punto giriamo dietro la Piazza Grande, guardiamo la Ghirlandina, che è un simbolo di Modena. La Ghirlandina, in un certo senso, fa parte del Duomo, perché sarebbe la torre campanaria del Duomo, ma è anche separata dal Duomo. E per i modenesi effettivamente è così, nel senso che è una torre che ha un valore non solamente religioso, ma anche un valore civico, civile, ha anche una funzione civica. Perché viene chiamata la Ghirlandina? Perché le balaustre in marmo che coronano la guglia di questa torre sono le giadre come Ghirlande. Perché è una funzione civica? Perché non richiama solo per le celebrazioni liturgiche, le messe, ma anche scandisce i tempi della vita della città. Ma questo in realtà avviene sempre quando ci sono delle campane che in una città non solo indicano l'ora della messa o dell'Angelus, ma anche scandiscono i tempi della vita della città. Segnalano l'apertura delle porte della cinta muraria, chiamano a raccolta la popolazione in situazioni di allarme e pericolo. E questo lo sappiamo anche dai promessi esposi quando ci sono le campane che suonano ripetutamente per svegliare la gente anche di notte se c'era un pericolo. Le sue possenti mura custodivano la cosiddetta sacrestia del comune, dove erano conservati i forzieri, gli atti pubblici e gli oggetti di alto valore simbolico, come la celebre trecentesca secchia rapita, che è qui esposta in copia, proprio all'interno di questa torre, vile nello stesso tempo, ma anche supremo oggetto. Una secchia. Cosa ci può essere di più vile di una secchia? Cioè di un secchio di quelli che usano i servi o le serve per pulire il pavimento. Ma in realtà era un oggetto che aveva assunto un valore simbolico eccezionale, supremo, perché era stato oggetto di contesa tra modenesi e bolognesi nel corso della storica battaglia di Zappolino del 1325. Quindi, addirittura, questi due comuni, che sono sempre stati, sono un pochettino ostili l'uno con l'altro, che combattono per una secchia. Questo argomento, effettivamente un po' eroicomico o ridicolo, se volete, ha ispirato, appunto, un poema eroicomico, La secchia rapita di Alessandro Tassoni in ottave del 1622. Qui. Poema eroico perché ha il metro dell'ottava, che è il poema dei grandi, scusate, che è il metro dei grandi poemi cavallereschi come l'Orlando Furioso, la Gerusalemme Liberata, l'Orlando Innamorato, eccetera, no? Ma eroicomico perché si narra di una vicenda abbastanza strana, combattere per una secchia. Testimonianza di un passaggio, di un cambiamento importante anche nel gusto letterario avvenuto nell'epoca del Seicento. E infatti questo è un testo del 1622. Benissimo. Questo qui, non so perché l'ho raddoppiato. Ah, comunque, mi interessava farvi vedere che cosa si trova, a parte, abbiamo detto qui, detto c'è il museo, si può salire sulla torre. Mi interessava, mi ha colpito molto, ai piedi della torre della Ghirlandina, il sacrario della Ghirlandina, ai partigiani modenesi caduti nel corso della resistenza. città partigiana. E' stata conferita, infatti, la medaglia d'oro al valore militare alla città di Modena nel dicembre del 1947. E si è creato questo sacrario che contiene, come vedete, le fotografie dei partigiani modenesi caduti nel corso della guerra civile. città partigiana, cuore di provincia partigiana. Al cocente dolore e all'umiliazione della tirannide reagiva prontamente rinnovando le superbe e fiere tradizioni e la fede incrollabile e ardente dei destini della patria. alla barbarie e alla ferocia nazifascista che tentava di concolcare l'orgoglio e domare il valore delle sue genti con vessazioni atroci, capestro e distruzioni, opponeva la tenacia invincibile dell'amore alle libere istituzioni. Ecco, questo amore alle libere istituzioni abbiamo detto caratterizzato a Modena sin dall'epoca medievale. In venti mesi di titanica lotta approfondeva il sangue generoso dei suoi eroici partigiani e cittadini di ogni lembo della provincia in sublime gara si ergeva da servaggio quale faro splendente della resistenza d'Italia infrangendo per sempre la tracotanza nemica. Una storia ricca la storia di Modena. Vi ho già parlato degli estensi che giunsero a Modena e vi instaurarono in uno dei centri più importanti dei loro possedimenti subito dopo Ferrara. poi fu creato un ducato di Modena se non sbaglio dopo in un tempo seguente rispetto ad altri ducati di Parma Piacenza eccetera con una confusione intendo dire insomma delle relazioni diplomatiche che si instaurarono soprattutto dopo il congresso di Vienna che attraverso le quali si intendeva esaudire ecco i desideri tra virgolette delle varie casate che allora erano al potere in Europa Asburgo Lorena Borboni eccetera e così fu instaurato un ducato il ducato di Modena e fu costruito il palazzo ducale tra l'altro ci ha spiegato proprio la nostra guida che osservando la facciata del palazzo a destra vediamo una parte del palazzo che è stata costruita tutta quanta in pietra e a sinistra in mattoni perché non c'erano più i soldi un'altra cosa che ci ha raccontato questa guida è che ahimè questo palazzo ducale è stato sede delle come dire delle gerarchie nazifasciste durante la guerra di resistenza quando c'era la repubblica di Salon e che qui in alto c'era veramente una stanza della tortura tremenda per cui tantissimi partigiani in modo particolare furono torturati e uccisi in questa stanza e si decise di murarla questa questa parte che è una parte insomma preminente in alto a sinistra del palazzo ducale si decise di murarla proprio per nascondere per sempre l'obrobio di questa casa della tortura modenese appunto nazifascista a differenza di quanto è avvenuto a budapest dove invece la casa della tortura la casa dell'orrore insomma nazifascista e poi stalinista è diventata un museo ma vi stavo spiegando che questa parte parte a sinistra della facciata guardandola di fronte è in muratura perché perché a un certo punto i duchi di modena non avevano soldi e adesso infatti approfondiremo il discorso sui soldi e le tasse che i duchi di modena cercarono di carpire dai modenesi prima però di parlare di questo dobbiamo spiegare che quando i Savoia unificarono i Savoia Cavour Garibaldi seconda guerra di indipendenza eccetera si arrivò all'unificazione d'Italia e quindi il palazzo del duca di modena divenne possesso dei Savoia esattamente come tutti gli altri parazzi ducali o reali insomma degli ex stati della nostra penisola i Savoia decisero di adibire questo palazzo a sede della Accademia Militare l'Accademia Militare del Savoia in realtà era stata fondata nel 1678 e aveva delle sedi tra virgolette piemontesi dopo l'unificazione d'Italia l'Accademia Militare ancora oggi l'Accademia Militare ha come sede l'ex palazzo ducale di Modena ed è come dire è una sorta di istituto quasi a livello universitario che serve per la formazione dei futuri ufficiali dell'esercito italiano dell'arma dei calabinieri eccetera eccola qui l'Accademia Militare di Modena dove ancora oggi appunto molti giovani vanno a studiare per diventare ufficiali e queste invece entriamo nelle facciamo così no invece in prima di questo andiamo a vedere quello di cui stavamo parlando prima cioè del fatto che il duca di Modena voleva avere certezze sui suoi tributi e per questo cataloga tutte le dimore delle famiglie modenesi con delle lettere qui vedete la lettera Q per esempio e numeri progressivi Q1494 non fatevi ingannare questo non vuol dire che quella quel palazzo non so risale al 1494 questa targa serviva per il catasto cioè è come non so dire mappa mappa catastale eccetera cioè sta a indicare semplicemente un numero che serviva agli esattori delle tasse del duca di Modena per formalizzare avere sotto controllo tutte le famiglie tutte le case di Modena per per poter effettuare la propria attività di riscossione dei tributi come vedete la come dire la numerazione delle vie di Modena ha avuto quindi parecchi anche cambiamenti per esempio adesso questo palazzo è il numero 51 ma evidentemente in una numerazione precedente ne aveva un altro qui ne vediamo un altro di di queste targhe no? che indicano R 1613 no? sempre con quel discorso che vi ho fatto prima del catasto comunque osservando queste queste targhe targhette ne abbiamo viste anche alcune che hanno un significato completamente diverso che sono quelle che riguardano l'epidemia di colera di Modena ciao salvo intanto del 1855 nel 1855 l'epidemia di colera arrivò in tutto il paese tutta l'Italia dal Piemonte Sabaudo al Gran Ducato di Toscana appunto al Ducato di Modena allo Stato Pontificio al Lombardo Veneto austriaco all'Isola d'Elba all'Isola del Giglio a quell'epoca siamo nel 1855 questi stati erano tutti divisi fra dei loro nel giro di pochi anni però sarebbero stati unificati a Modena questa epidemia di colera fu veramente devastante al punto che la popolazione fu più o meno quasi dimezzata da questa epidemia di colera ecco il motivo per cui molte strade molti palazzi volevo dire hanno questa sorta di targa dedicata insomma di carattere religioso dedicata a Gesù una sorta di preghiera di ex voto o di ringraziamento per la fine di questa epidemia del 1855 l'ultima slide che vi faccio vedere è questa quella di un rifugio l'indicazione che si può ancora leggere molto molto chiaramente di un rifugio una scritta che risale alla seconda guerra mondiale perché Modena è stata oggetto di svariati bombardamenti proprio nel corso di questa seconda guerra mondiale come e Grazie.